festa di chiusura dell'annata per l'asilo nido di martignana ma anche l'occasione per fare il punto della situazione di una struttura che è stata ampliata e migliorata siamo qui per la festa di fine anno dell'asilo nido di martignana di può molto frequentato e molto funzionale terminerà la settimana prossima quest'anno scolastico e riprende subito coi primi di settembre abbiamo già un bel numero di iscrizioni venire qui è sempre una gioia per vedere i bambini i loro genitori che usufruiscono di questo bellissimo servizio e continuiamo tutti gli anni di investire in questa bella struttura partita prima dalla nostra amministrazione che noi abbiamo terminato inaugurato per renderla sempre più accessibile e sempre più moderna per i frequentatori 37 bambini per l'anno appena concluso di cui 22 residenti e già frequentanti più altri 13 residenti che si sono aggiunti in corso d'anno e due bimbi di famiglie non residenti a martignana di può insomma numeri importanti visto anche il calo demografico che colpisce la zona casalasche non solo con le iscrizioni che sembrano segnare una controtendenza a ottobre novembre i primi nuovi inserimenti con il nido gestito dalla cooperativa letate di colorno ma le iscrizioni si completano poi durante l'annata con i 38 posti raggiunti grazie all'ampliamento voluto dal comune che ha inserito così una nuova sezione già praticamente esauriti rinnovati anche gli arredi e i seramenti per una spesa di 80 mila euro per la nuova aula